Questa è una saponetta wifi, un attrezzo comodissimo che ci permette di muoverci in libertà e di portarci internet con noi, collegare in wifi tutti i nostri dispositivi, smartphone, tablet, computer. Peccato che questo strumento abbia qualche piccolo inconveniente come quello di in teoria potenzialmente poterti addebitare 1400 euro sul tuo conto corrente senza che te ne renda conto. Eppure è esattamente quello che è successo a una nostra cliente di Basta Bollette che ci ha contattato per chiedere assistenza per un problema simile. Le sono state addebitati dei servizi non richiesti sulla sua saponetta wifi per un ammontare complessivo nel corso di un anno di 1400 euro. Questi debiti sono stati dovuti a delle attivazioni di questi servizi che sono servizi di abbonamenti come oroscopi, immagini sexy, suonerie, giochi che non sempre gli utenti scelgono di avere. La signora lamenta appunto che queste attivazioni sono avvenute a sua totale insaputa e quindi si è vista ingiustamente addebitare tutti questi soldi. Questi abbonamenti non richiesti hanno da sempre impreversato sui nostri smartphone. È frequentissimo il problema dell'attivazione non richiesta dall'utente di simili servizi a pagamento che in genere si pagano 5 euro a settimana e sono una bella scocciatura. Quando viene attivato il servizio, l'utente riceve un sms che lo informa dell'avvenuta attivazione del servizio e della sua possibilità di disdirlo chiamando un numero verde oppure collegandosi sulla sua app e andando nella sezione servizi in abbonamento, servizi a valore aggiunto e chiedendo espressamente la disdetta e l'annuamento di questi servizi. Dopo aver proceduto alla disattivazione, possiamo procedere alla richiesta di rimborso che va all'operatore e che se viene fatta tempestivamente a volte viene soddisfatta e quindi l'operatore rimborsa il maltolto all'utente. Questo non sempre accade, ma vale sempre comunque la pena chiederlo il prima possibile. Questi addebiti sono una bella scocciatura, ma sono una scocciatura dalla quale almeno ci si può difendere, perché si riceve l'sms di attivazione e subito dopo la ricezione di questo sms l'utente si può attivare, uno per disattivarlo e due per chiederne il rimborso all'operatore. Diversa è la saponetta, la saponetta infatti a differenza del smartphone non ha un display dove è possibile leggere l'sms ed essere informati dell'attivazione dell'abbonamento non richiesto. Ha come vedete soltanto una striscia di led che indicano la connessione, la presenza o meno di segnale, la batteria quando si scarica e sì c'è l'icona dell'sms che indica la ricezione di un sms, ma non ne permette di leggere il contenuto. Per leggere il contenuto la procedura è molto più articolata di quella che usiamo sui nostri smartphone, perché bisogna installare una app o un software specifico sul pc da cui si collega internet e andare a scendere nei meandri dei menu presenti nella chiaretta per arrivare infine alla sezione leggi gli sms e lì soltanto in quella sezione potremo scoprire se ci hanno addebitato dei servizi non richiesti oppure no. Insomma questa procedura è alquanto complicata e poco user friendly, poco amichevole per l'utente e non consente certo di controllare con efficacia e velocità l'eventuale addebito di servizi indesiderati. Ed è esattamente quello che è successo alla signora Maria che ci ha contattato, lei dormiva su sette cuscini, non immaginava che stava subendo ripetutamente degli addebiti di questi servizi, né si poteva rendere conto della cosa dall'invio delle fatture, perché lei non riceveva fatture cartacee, riceveva fatture solo via mail che sì le venivano recapitate, ma non c'era alcun modo di ipotizzare che queste fatture contenessero dei servizi non richiesti, perché mai diceva la signora mi dovrebbero addebitare dei servizi che io non richiedo, pago quelle 10-15 euro mensili per la connettività internet e non sforo mai il monte dati, la banda a disposizione, non supero i giga, non acquisto servizi e quindi le fatture non c'è neanche bisogno che le controllo. E qui è stato l'errore della signora? Eh sì, perché questi addebiti lamentati della signora venivano prelevati direttamente dal contocorrente familiare, che anche quello non è proprio sempre di immediata percezione di anomalie, nel senso che se è un contocorrente familiare o peggio aziendale, molto movimentato, con tante entrate e uscite, con tanti piccoli acquisti, bancomat, spese varie di acquisto con carta di credito, servizi magari volontariamente acquistati di basso importo, in questa miriade di transazioni diventa assai difficile identificare quali sono quelle illegittime e sospette, specialmente quando, come nel caso dei servizi non richiesti, questi addebiti non riportano l'intestazione dell'operatore telefonico, non c'è scritto Vodafone 3, ma c'è scritto l'operatore di un'anonima società che eroga il servizio e lo vende attraverso i portali degli operatori telefonici tradizionali, quindi sono delle voci di costo presenti nel contocorrente estremamente difficili da identificare. E infatti la signora sì se ne rende conto di questi addebiti, ma se ne rende conto quando è ormai troppo tardi, quando è passato più di un anno e mezzo dalla prima attivazione e nel corso degli anni questi servizi, accumulandosi settimana dopo settimana, ne erano due, arrivano allo stratosferico ammontare di 1.400 Euro. La signora manda subito, appena si rende conto, una raccomandata a Vodafone in cui chiede 1. la disattivazione immediata di questi servizi, 2. la disdetta del contratto, il recesso, perché evidentemente è venuta meno alla fiducia che c'era prima tra la signora e l'operatore di telefonia e 3. chiede il rimborso di tutte le somme mai addebitate ingiustamente sul contocorrente della signora. Sapete qual è la straordinaria risposta di Vodafone? Fa un'offerta, un'offerta transattiva nella quale propone alla signora il rimborso delle somme, ma non tutte le somme e neanche la metà, neanche un terzo, molto molto meno, propone 80 Euro di rimborso a fronte delle 1.400 Euro ingiustamente prelevate. Potete immaginare la versione della signora che rifiuta la proposta e si rivolge a noi di Bastabollette mandando una richiesta sul nostro sito tramite il modulo bastabollette.it in cui ci chiede assistenza nel recuperare queste somme e noi le illustriamo il menu che siamo pronti a preparare da portare a Vodafone per consentire di gustare le nostre azioni legali volte al recupero di questa somma. In primis con la signora faremo un ricorso al Corecom che è un'operazione obbligatoria, necessaria, perché è l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione che la legge prevede nel caso di problemi e controversie di telefonia. Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, dopo che questo avrà esito probabilmente negativo, ma potrebbe anche trovare in questa sede un accordo Vodafone, andremo alla fase successiva che può essere o la definizione sempre presso lo stesso Corecom in cui il Corecom, l'ente di conciliazione diventa l'ente di decisione, perché avvocandosi la funzione che è tipicamente quella del giudice, decide sulla controversia e si pronuncia a favore o contro la signora per il recupero della somma. In alternativa, dopo aver esprito il tentativo di conciliazione, si può andare direttamente dal giudice ed è la strada che perseguiremo noi, perché nella nostra esperienza il giudice ha dei poteri e ha un atteggiamento pro-utente che aiuta nei casi di tutela al consumatore, come il caso della signora. La nostra associazione infatti ha ottenuto numerose sentenze positive che hanno visto gli operatori condannati al risarcimento di somme anche ingenti, come ad esempio una recente sentenza del Tribunale di Milano che ci ha visto vittoriosi proprio contro Vodafone e che ha visto la condanna dell'operatore al rimborso dell'intera somma di addebiti non richiesti, che ammontava in quel caso a circa 1.900 Euro e in più anche un riconoscimento di 500 Euro di risarcimento danni per il disagio evidentemente subito dall'utente, oltre al pagamento delle nostre spese legali. Ma non è detto e non è neanche augurabile che dobbiamo ricorrere al giudice per ottenere il rimborso delle somme ingiustamente addebitate. Possiamo anche evitare a monte di subire queste attivazioni illecite, semplicemente adottando condotte di prudenza e determinate azioni a difesa della nostra utenza telefonica che ci permettono di respingere o quantomeno di arginare il problema dei servizi non richiesti. Vediamo quindi 3 consigli che servono a ridurre al minimo il problema degli abbonamenti non richiesti sulle saponette. 2. Verificare anche tramite le app e i software a corredo delle saponette l'arrivo di ogni sms che riceviamo informativo che riceviamo sulla proposta saponetta. Quasi sempre è un sms informativo da parte dell'operatore che ci informa di cose che è importante sapere come l'esavimento del credito residuo, come l'attivazione dei servizi non richiesti o altre informazioni importanti, variazioni tariffarie che in genere vengono comunicate attraverso questo sistema, benché non sia semplice da leggere. 3. In caso di anomalie, contattare subito il servizio clienti dell'operatore. Se lo si contatta subito, si aumentano le possibilità di ricevere un rimborso immediato, quindi non aspettare come purtroppo ha fatto la signora un anno e mezzo per contattare l'operatore e poi fargli causa, ma chiamarlo non appena abbiamo consapevolezza della presenza di un servizio non richiesto. 4. Quarto e ultimo consiglio, tenere presente che c'è la possibilità di chiedere il barring sms, cioè il blocco preventivo e totale di qualsiasi abbonamento a pagamento in cui si può incorrere nella normale navigazione online e quindi quando è indesiderato. Il barring sms è una forma di tutela molto efficace che in teoria dovrebbe bloccare completamente gli abbonamenti non richiesti. Abbiamo avuto però segnalazioni da parte di molti utenti della nostra associazione che il barring viene disabilitato automaticamente, cioè quando si effettua il barring, magari dopo un po' di tempo il cliente torna a ricevere un'attivazione non richiesta e quando chiama il servizio ai clienti per chiedere informazioni gli dicono che il barring è stato volontariamente disattivato dall'utente stesso, cosa ovviamente non vera e che evidentemente viene fatta al solo scopo di continuare con gli addebiti non richiesti. Ed è tutto per l'argomento di oggi, grazie per avermi seguito fin qui, se hai trovato questo video interessante condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale YouTube di Bassabollette per avere informazioni su automatiche su quando verranno pubblicati i prossimi video.